Giorgia Meloni, ospiti di Mattino 5, chiarisce che in caso di vittoria elettorale e di designazione alla guida del governo, non avrà bisogno di consultare Mario Draghi per la scelta di alcuni ministeri chiave Nulla di più Ma i ministri, quelli, li sceglierà lei. Non voglio parlare di ministri Sono riuscita fino a oggi a non farlo e domani si chiude la campagna elettorale. Ho in mente alcuni nomi Se gli italiani decideranno di darci la loro fiducia, lavoreremo per una squadra di governo di altissimo livello Punto per quanto riguarda il centrodestra, tengo molto alla compattezza della coalizione che condivida le grandi questioni Spero e credo che il centrodestra avrà la maggioranza che serve per governare il paese 5 anni I governi arcobaleno li lasciamo agli altri. Nessuna paura per il Movimento 5 Stelle che secondo gli ultimi sondaggi sta risalendo Non temo rimonta 5 Stelle che possa mettere in discussione un'eventuale vittoria del centrodestra Dai dati che ho letto, il M5S guadagna voti a danno del PD.Infine, sul reddito di cittadinanza, la leader di FD, sottolinea che è stata una misura sbagliata Se noi andassimo al governo mi piacerebbe fare un'assistenza seria nei confronti di chi non può lavorare e creare invece le condizioni per l'occupazione di chi è in grado di lavorare Se ha un ragazzo di 23 anni, perfettamente in grado di lavorare, decido di dare il reddito di cittadinanza per quanto tempo posso permetterlo? Conclude la Meloni Lo Stato non avrà 10 miliardi ogni anno da mettere sull'RDC. La povertà non si combatte mantenendo la gente nella sua condizione L'unico modo per combattere la povertà è costruire le condizioni per creare posti di lavoro L'unico modo per combattere la gente nella sua condizione